colpo per trattenerlo qui. Se dovessimo mancarlo, lo avremmo perso per sempre. Ed è per questo che ho deciso di giocare pesante. Questo è l'ammazzatraghi. Lo useremo per respingere lo Zora e dirottarlo verso il mare aperto. Il bersaglio si scaglierà contro di noi. Il vostro lavoro è di sfiancarlo e cercare di tenerlo a bada. Non dategli tregua. Sono stato chiaro? Sì, Dio! Un'ultima cosa. Ci aspettiamo che anche questa volta compaia il NER gigante. Se dovesse ostacolarci, starà a voi occuparvene. L'intera operazione dipende da quanto bene riuscirete a farlo. Conto su di voi. Vai in ricognizione. Avvertici in caso di pericolo. Sta arrivando. Andate! Sì, Dio! Fate tutto ciò che potete! Tenete sempre gli occhi aperti! Combattete ma usate il cervello! Cacciatori! Dovrete indebolire lo Zora Magdaros una volta che sarete sul suo dorso! Mettetecela tutta! Distruggete i cumuli per indebolirlo! O cercate di colpirlo facendo precipitare delle stalattiti! Abbiamo minato le stalattiti con della polvere da sparo! Usate la fionda per farle saltare! Puoi dargela! Fai molta attenzione! Ok, siamo sulla corazza dello Zora! Distruggi i cumuli per indebolire lo Zora Magdaros! Il successo dell'operazione dipende dalla nostra capacità di indebolire la preda! Cumulo individuato! Tutto atto! Tutto att Thanh だ C'è di down' Siamo fatta Mostrami perché sei tra i migliori Ottimo lavoro! Cerca il prossimo fumo! Sta succedendo qualcosa alla corazza! Il flusso del magma sta cambiando! Mostrami perché sei tra i migliori Non tirarti indietro! It's all你的 occupations! Non capissimo! Ma che faccia tu? Non capisci i migliori Non capisci i migliori Non capisci i migliori Cosa sono questi tremori? Credo che lo Zara Magdaro si stia accumulando energia! Continuate a colpirlo fin quando non le viste! Dobbiamo imponire che lo Zara rilasci l'energia! Oggi aperti! Eccellente! I bloccanti sono pronti! Tutto pronto, capo! Ehi, collega! Ehi, collega! Ehi, collega! D'accordo! Bloccanti pronti! Ora, vuoto! Versaio immobilizzato! Zara Magdaro sa spesso di avanzare! Cosa? Un attimo! Prepariamoci! Il Nergigante ci è addosso! Non mi sorprende! Scacciatori! Preparatevi! Nergigante! Sulla corazza! Sulla corazza! Usa tutto ciò che hai! È un attimo! Grazie a tutti. Vai! L'Ozora si è liberato! Nessun problema! Cacciatori, restate concentrati! Dovete allontanare il Ner Gigante! L'Ozora Mardaro si sta cambiando posizione! Vuole alzarsi! Preparatevi alla scossa! Attenti a non cadere! L'Ozora Mardaro si sta alzando sulle zappe posteriori! Cacciatori, insistete! Solo voi potete sconfiggere il Ner Gigante! Vai! Siponfiggere! 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 Grazie. Grazie, quel mostro non deve averla vinta! Tirate fuori tutto il vostro coraggio! Addosso! Puoi farcela! Vai! Il ner gigante si sta ritirando! Perfetto, un problema in meno. Proseguiamo con le operazioni! Lo Zora Magdaros è di nuovo in piedi! Continua ad avanzare! Occhi aperti! Grandioso! Prepariamoci a intercettarlo alla barriera! Cacciatori, distruggete i cumuli! Dobbiamo continuare a indebolire il bersaglio! Secondo cumulo distrutto! Ok! Quasi! Vediamoci! Perfetto! Che, l'amore! Lassi! Vediamoci! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa è l'ultima panchione! Non avremo una seconda chance! Nello Zora Magdaros riesce a sfondare è finita! Di qua! Non tirarti indietro! Ok! 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Benvenuto, cacciatore. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.